Gentili telespettatori, buona giornata. Finalmente, finalmente, c'è qualcuno che dice quello che io dico da tempo, eh? Bignami smaschera Schlein. Caspiterina, sono passati mesi dall'alluvione e oggi c'è qualcuno che smaschera? Sabbè, sono i titoli un po' così di alcuni giornali. Bignami smaschera Schlein. Adesso, cari giornali di destra e cari politici di destra, Schlein avreste dovuto smascherarla subito. Invece, quando c'è stata l'alluvione, sembrava quasi che i giornali di destra e i politici di destra fossero intimoriti nel chiedere conto a Schlein e Bonaccini dell'alluvione. Chiaro, non è che Schlein e Bonaccini sono colpevoli di aver fatto piovere. Non siamo come Bonelli che diceva che la Meloni prosciugava i fiumi. Eh, dai, ci mancherebbe altro. Quindi non stiamo dicendo che colpa di Bonaccini e di Schlein sia piovuto troppo. Però, io subito ve l'ho detto, subito, ma i giornali di destra timidamente avevano fatto qualche articoletto timido. Invece avrebbero dovuto mettere dei titoli cubitali, come fa la sinistra. La sinistra, quando c'è mezza cosa, ti mette il titolone di prima pagina. Mentre i giornali di destra, no. No. Ma Bignami è l'unico che dopo mesi, in questi giorni, sta mettendo proprio i puntini sulle i. Cosa che avrebbero dovuto fare da tempo. Bignami smaschera Schlein. Su quale poltrona sedeva? Eh, su quale poltrona sedeva l'abbiamo detto mille volte. Solo che io direi ai giornali di centro-destra, sveglia, sveglia, che il treno passa, sveglia. Quando c'è da attaccare su delle cose giuste, tutti zitti. La sinistra se le inventa pure le notizie, per dar contro al governo. E quando voi avete una notizia clamorosa, tutti muti, quasi intimoriti. Perché? Pensate un po'. I giornali scrivono che si scatena questa polemica divampata ieri attorno a quello che ormai è diventato un dossier nazionale sul piano della risposta governativa. Coinvolgendo il ruolo di Schlein in Emilia-Romagna, l'alluvione. Quindi dicono, Galeazzo, Bignami contro il PD. Voi direte, contro il PD per l'alluvione oggi? Perché? E dice Bignami, quello che è avvenuto qui in Emilia-Romagna, alludendo all'alluvione, durante un evento di partito non è solo frutto del clima, è frutto di un ideologismo ambientalista di cui gli esponenti di ultima generazione del PD rappresentano l'esempio di fulgida intelligenza e che trovano in Elie Schlein la sacerdotessa. È bella questa, no? Sta dicendo degli intelligentoni, no? Dice, quegli intelligentoni di ultima generazione che trovano in Schlein la sacerdotessa. Quindi Bignami sta dando dell'intelligentona anche alla Schlein. E ha aggiunto, ricordo che lei era assessore per il clima, ha grosse responsabilità per l'incuria del territorio per cui forse dovrebbe chiedere scusa. Sono proprio d'accordo, ma quello che dice Galeazzo? Bignami lo avrebbero dovuto scrivere a caratteri cubitali tutti i giornali di centrodestra per un certo numero di giorni quando successe l'alluvione. Invece si parlava di altre cose. Infatti, ricordate che la Schlein è scappata, non si è presentata in Emilia-Romagna, e quando si è presentata si è nascosta in una zona, è andata giù in una zona sperduta, in mezzo alla campagna, dove c'era solo uno che gli spiegava, guarda che il fiume qua è uscito. Quindi la Schlein non si è fatta, è sparita, e quando si è presentata in Emilia-Romagna, alla fine, non si è mica fatta vedere nei centri abitati in mezzo alle persone, ma in una zona isolata. Furba lei, eh? E invece i giornali di centrodestra, gli opinion leader, quelli che parlano in televisione, che scrivono sui giornali, muti. Qualcuno ha detto qualche mezza parola, ma tutti muti, tutti muti. Quindi, quella si era nascosta, dicendo adesso me ne dicono di tutti i colori, invece niente. Quella si è nascosta e avrà pensato, ma guarda questi qua di centrodestra, non dicono niente. Mamma che geni. Infatti, è possibile che Galeazzo Bignami ne parla oggi, 12 agosto, e viene fuori il caso. Bignami sta accusando la Schlein. Ma dove va? Va bene Galeazzo, va benissimo Galeazzo, ma tu dovevi dirlo ai tempi dell'alluvione? Non oggi. Oggi va anche bene, ma dovevi dirlo anche prima. Non solo tu, ma dove sono tutti gli altri leader del centrodestra, che avrebbero dovuto chiedere tutti i giorni e chiedere le dimissioni dal Parlamento di questa capa politica che si nascondeva durante l'alluvione, che poi aveva la delega al clima prima di diventare capo del PD. Ecco, quindi va tutto bene, caro Galeazzo, ma queste robe andavano dette prima, con forza. Certo che qualcuno le ha dette, qualcuno ha insinuato qualcosina, ma nessuno è andato giù pesante, nessuno. Questo viene riportato oggi in auge perché Bonaccini dice che non sono arrivati soldi in Emilia Romagna e la Meloni risponde, bugie, sono già stati stanziati 4,5 miliardi. Ecco, quindi abbiamo un Bonaccini e una Meloni con le loro responsabilità sull'ultima alluvione che poi attaccano il governo dicendo anche bugie, non sono arrivati soldi. E l'altra, la Schlein, che va dalla Meloni a chiedere conto del perché non siano arrivati soldi, e la Meloni le risponde, ma certo che sono arrivati, ne hanno già mandati 4,5 miliardi e non è finita. Quindi andare a tu per tu, faccia a faccia, con il Presidente del Consiglio a dirle non sono arrivati soldi quando sono arrivati e sono stati mandati che ti fa capire lo spessore politico di questa Schlein, la stessa che era scappata dall'alluvione e si era presentata nella zona di campagna ben nascosta. Ecco, quella che aveva la Delegal Klima in Emilia Romagna, pensate un po'. Ecco, diciamo che c'è qualcosa di profondamente che non funziona in questa politica, nei media e in tutto quello che vi ho raccontato fino adesso. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.